Vigile si pensava che dovessi giocare in attacco con Olivarez e poi invece hai giocato con Ugo, tu cosa ti aspettavi? Questo il mister l'ha scritto su un foglio, io mi pensavo che non giocavo quando ho visto Ugo avanti, poi il mister ha detto giocate insieme, giocate tranquilli, state tranquilli, stasera fate bene, ci siamo riusciti penso. Quando hai agganciato la palla con il tacco, in quel momento che cosa hai pensato ora faccio gol? Io non ho pensato a niente, ho proseguito la mia azione, con la testa me l'ho sopportato avanti, poi ho dribblato Gheorgatos e ho calciato in porta con la benda agli occhi, andava la palla. Dopo il gol hai avuto un'altra occasione, hai sbagliato, ti sei buttato per terra quasi per disperarti simpaticamente? Ero molto disperato, io mi pensavo che la partita andava non male, malissimo e poi era molto dura anche per il morale. Secondo te sono stati più i meriti del Bari o i demeriti dell'Inter? Stasera abbiamo fatto una grande partita su tutti i punti di vista, tatticamente e anche abbiamo dimostrato di essere abbastanza valida tecnicamente. Senti, fino alla fine del campionato qual è il tuo obiettivo? Continuare così, facendo bene. Ti ringrazio, ciao.